Well ragazzi benvenuti in questo nuovo video, sono Dexter e oggi ragazzi siamo in un nuovo video di Brawl Stars Allora ragazzi anche oggi come avrete letto dal titolo parleremo dell'argomento come la Supercell dovrebbe fare per far rinascere Brawl Stars secondo me Allora ragazzi mi raccomando prima di cominciare però un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi tutti i nuovi video che esceranno in questi giorni nel canale E passate al link in descrizione per vedere il mio nuovo sito web realizzato con Canva e anche il powerpoint sulle mie passioni, sui miei giochi preferiti e tanto altro se volete conoscermi meglio Allora ragazzi questo video l'ho realizzato diciamo guardando il video di Raxor che è uscito l'altro giorno, ve lo lascio qui tra le schede Finito il video ragazzi mi raccomando andatevi a vedere anche il suo perché io appunto ho preso totalmente spunto dal suo video Perché effettivamente nel video scorso dove vi avevo parlato di come secondo me bisognava far rinascere Brawl Stars non avevo minimamente pensato a questa cosa che ha detto lui nel suo video E quindi siccome secondo me è molto bella come idea quello che ha detto oggi ragazzi ve lo ripropongo anch'io perché anche io voglio darvi la mia idea sull'argomento Però mi raccomando, ho preso spunto totalmente dal suo video quindi mi sembra giusto che dopo andate a vedere anche il suo, mi raccomando ve lo linko tra le schede Allora ragazzi l'argomento principale diciamo portante di questo video è il Brawl Pass In particolare che sezione del Brawl Pass non le ricompense o meglio anche, anche ma soprattutto le missioni Allora ragazzi mettiamo caso che io devo fare la missione in questo caso vinci 5 battaglie con colonnello ringhio E mettete caso, non è il mio caso perché il ringhio mi piace molto come brawler Ma mettete caso che non mi piace utilizzarlo, non sia bravo ad utilizzarlo E quindi però per completare la missione e quindi progredire con il Brawl Pass io lo debba per forza utilizzare E magari faccio la missione ma vado a droppare un sacco di trofei Ragazzi in questo caso noi dobbiamo per forza utilizzarlo Per cui cosa ha detto Raxor nel video e che condivido totalmente Quanto sarebbe bello se andassero a togliere le missioni E ora voi direte, e quindi se la Supercell va a togliere le missioni come facciamo a progredire con il Brawl Pass? Dovremmo utilizzare per forza questi gettoni qui che però sono troppo pochi Cioè dovrebbero, non riusciremo neanche ad arrivare alla soglia tipo 40 del pass a fine season con solo questi gettoni Avete ragione, ma cosa vorrei che aggiungessero e che Raxor in generale tutti vorrebbero Che questi gettoni non fossero più 200 al giorno ma fossero infiniti Ebbene sì ragazzi è da anni in realtà che io lo penso e dico ma perché non mettono i gettoni infiniti Adesso ancora di più ragazzi ci starebbe un sacco perché così ragazzi Brawl Stars diventa con una meccanica totalmente simile a Royale E Royale essendo che ha fatto un successone incredibile Brawl Stars sarebbe giusto che diciamo la tematica o comunque il gioco sia molto simile a Clash Royale Proprio per questo motivo perché la community apprezzerebbe molto di più In che senso? Se noi avessimo i gettoni infiniti Noi potremmo andare a completare il pass esattamente come Clash Royale Quindi anziché appunto le corone che ci sono su Clash abbiamo ovviamente i gettoni E i gettoni i gettoni ragazzi praticamente sono infiniti Quindi non abbiamo più le missioni ma abbiamo i gettoni infiniti che possiamo accumulare Giocando alle partite con qualsiasi brawler E naturalmente andando a giocare queste partite E noi accumuliamo gettoni in base in base però ragazzi a che posizione abbiamo fatto Quindi in base alla posizione oltre ai trofei andiamo a accumulare anche un tot di gettoni Quindi posizione numero 10 io metterei tipo 0 gettoni Posizione numero 9 10 gettoni Così sparo a caso eh Posizione numero 8 20 gettoni Fino alla posizione numero 1 per esempio 50 gettoni Ma sparo a caso eh ragazzi sto dicendo dei numeri a casaccio Però comunque più la posizione che hai raggiunto è alta e più accumuli gettoni Secondo me sarebbe geniale così perché le missioni andrebbero abolite Quindi tu non devi più per forza utilizzare quel brawler che non ti piace Ma puoi semplicemente utilizzare il brawler con cui più tu ti trovi meglio E andarlo ad utilizzare per completare il pass Altra cosa perché nel pass non potrebbero aggiungere degli manufatti Per velocizzare o comunque completare interamente un livello 11 un livello 10 E quindi andare ad ottenere dei gear molto più facilmente Visto che adesso tutti a coppe alte hanno i gear E se sei livello 9 non ce la farai mai a batterli Ci potrebbe stare ma questo forse ne parleremo in un video più a parte Prossimamente forse forse no Se questo video uscirà probabilmente il giorno prima del Brawl Pass Del Brawl Talk perdonatemi Quindi non lo so se riusciremo a parlarne in tempo Fatto sta che comunque probabilmente su questo ci farò un video dedicato Però fatemi sapere la vostra anche su questa cosa che vi ho appena detto Accennato diciamo Altra cosa Altra cosa ragazzi Questa è una roba geniale che ha detto Raxor Io non ci avrei minimamente pensato Perché non andasse la Supercell a togliere i trofei dai brawler Mi spiego meglio Andiamo a vedere le classifiche Classifiche sia mondiale che locale ovviamente Abbiamo la classifica dei trofei La classifica dei club E la classifica dei brawler Quindi ogni brawler C'è la top mondiale e la top locale Ovviamente questa top mondiale dei brawler Mi soffermo soprattutto su questa È fatta attraverso i trofei Che siamo andati ad ottenere con quel brawler Ma perché non fanno questa cosa che vi sto per dire Ovvero I trofei rimangono esattamente così come sono I club rimangono esattamente così come sono I brawler non hanno più i trofei Ma hanno un'altra cosa Per esempio come ha detto Raxor Delle solite di medaglie Dei medaglioni Quindi basterebbe che creassero una nuova Modalità di gioco O comunque un qualcosa O semplicemente nella modalità di gioco Dove tu vai a guadagnare i trofei I brawler anziché i trofei Guadagnano o perdono delle stelle O dei medaglioni In modo tale che il matchmaking Che voi andate ad avviare Si vada a risolvere E invece i brawler Si vadano a diciamo Accumulare O comunque potenziare E aumentare il loro rank Con delle stelle O con un'altra cosa Anziché i trofei Vi faccio vedere per esempio Il mio registro mischia Andiamo a vedere l'ultima partita Io stavo utilizzando Carl E questa partita è di 5 ore fa Stavo utilizzando Carl E come vedete Come vedete ragazzi Abbiamo Un 8 bit Un Brock Mentre controvevamo Una Jackie Una Tara E un altro 8 bit Ora come vedete C'è effettivamente Un po' di differenza Tra le coppe Ma si parla comunque Di differenze Di 20 o 30 trofei Ma Cosa andiamo a vedere Io ho in questo momento 17.000 trofei circa Vediamo questo 8 bit Ne ha quasi 19.000 Vediamo questo Brock Ne ha 21.000 Vediamo questa Jackie Ne ha 20.000 Vediamo questa Tara Ne ha 18.400 Vediamo questo 8 bit Ne ha 21.000 Ragazzi qua si parla Di differenze Di 1.000 2.000 3.000 O anche 4.000 5.000 Trofei A partita E questa differenza Si nota ancora di più Se utilizziamo Dei brawler A coppe Molto più alte Delle 500 Per esempio Le coppe con Shelly Ora io non so Se riesco a reperire Una partita con Shelly Perché Appunto Non faccio una partita Con Shelly Da tanto Ma approfittiamone Andiamo al volo A farci una partita Con Shelly E così vi faccio vedere Anche questa cosa Me la vado a mettere Al volo E andiamo Per esempio In Si andiamo in Una partita Diciamo veloce Che però Vabbè dai Andiamo su dominio Anche se non è Troppo veloce Ma È giusto per farvi capire Giusto per farvi capire La differenza Che c'è Tra i trofei Di un player E i trofei Di un altro player Se aggiungessero Questa cosa Dei medaglioni Ragazzi Sarebbe perfetto Perché In questa maniera Tanto qua Chillo Bastardo In questa maniera Ragazzi I brawler Non si poter Non si vanno più Ad aumentare Non va più ad aumentare Il rank Attraverso I medaglioni Sto laggando Come la merda Ma Vado Ad aumentare Il Loro rank E Cioè scusate Non attraverso le coppe Ma attraverso Questi medaglioni Quindi che cosa succede Che il matchmaking Viene Viene diciamo Effettuato Attraverso I trofei Dei player E non attraverso Le coppe Dei brawler Che Come è adesso Ragazzi Perché Cosa succede Brawl Stars Vi matcha Con le persone Che hanno Un brawler Con le coppe Con le coppe Più simili Alle vostre Ma non Con i trofei Effettivamente Che avete nel vostro account Più simili ai vostri Perché avete visto C'era gente In quell'ultima partita Che aveva 21.000 trofei Io ne avevo 17.000 Si parla di differenze Di 5.000 trofei Ragazzi Non è poco Se mettessero Questa cosa Sarebbe geniale Perché così Avete sempre La classifica Dei brawler Se la si vuole lasciare Effettivamente Avete sempre La classifica Dei brawler Solo che anziché Averla in trofei L'avete in medaglioni O in stelle O qualcosa del genere Sarebbe molto 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 meglio Adesso vi faccio vedere Che qui Teoricamente Almeno Dovrebbe essere così La differenza Dovrebbe essere Molto più imponente Io adesso O Shelly A 654 Vedete Le coppe Di tutti questi player Questo ce l'aveva A 655 Quindi una coppa In più a me Una coppa in più di me 30 coppe In meno di me No 20 E Questo Frank Ne aveva Una decina In meno di me Shelly Questa Ne aveva una In più di me E Nita Una trentina In meno di me Questo per farvi vedere Che cosa ragazzi Per farvi vedere Che se noi ora andiamo Io ne ho 17.000 Ripeto Andiamo a vedere lui 18.000 Andiamo a vedere lei 31.000 31.000 Ragazzi 31.000 30.000 25.000 29.000 Ragazzi Si parla Di una differenza Di oltre 10.000 Trofei E io ragazzi Non lo dico a caso Una persona che ha Più di 10.000 Trofei più di te È sicuramente Molto più forte di te Perché vuol dire Che ha pushato Molti più brawler di te E sa utilizzare Molto meglio i brawler Rispetto a te O almeno Di solito è così Può essere anche però Che siano dei secondi account Di pro player Che però Sanno giocare In una maniera Eccellente Lo stesso E questo Sarebbe un'altra cosa Che andrebbe a migliorare il gioco Ovvero premiare Per la qualità del gioco E non più la quantità del gioco Che sarebbe perfetto Che è forse Il motivo Proprio perché I player L'hanno smesso di giocare A blowstars Quindi Ricapitolando Andiamo a togliere le missioni Dal brawl pass E mettiamo I gettoni Per le partite infiniti In modo tale Che sia Come su clash royale Che noi Accumulando gettoni In base alle posizioni Che andiamo a fare O alle vittorie O alle sconfitte Se si parla di Modalità trevurtre Andiamo ad accumulare Tutti i gettoni E tryhardando nel gioco Andiamo ad accumulare Un sacco di Un sacco di Diciamo di Di soglie Per il pass Se abbiamo Solo il pass Gratuito Andremo ad ottenere O tutte le Le soglie In base Ovviamente A A quanto tempo abbiamo Cioè vuol dire Una soglie al giorno Come su clash royale Quindi 70 giorni di tempo Vuol dire Oltre due mesi Quindi la season Può durare due mesi A mio parere No È un po' troppo Ragazzi È diventata Una season di fortnite Solo che fortnite Aggiungono Ogni volta Delle cose Nella mappa E ci sono tante Di quelle modalità Che potete fare Quello che volete Su brawl stars Alla fine Il succo del gioco È sempre quello A parte l'ambientazione Ma è sempre quello Per due mesi Non è che ci siano Dei cambiamenti effettivi Nel Nel game Come su fortnite Qui su fortnite Su brawl stars Si parla proprio Di una cosa Che dura Che va avanti Per due mesi Troppo ragazzi A mio parere E quindi Si potrebbe mettere Che effettivamente Un tot di soglie Non si vanno a guadagnare Se sia solo il pass gratuito Ma Ma Se comunque Si vanno a superare Le 70 soglie Ma ripeto Non essendoci Abbastanza giorni Del brawl pass Non le andiamo a guadagnare Queste soglie qui Ma Comunque Possiamo guadagnare Le casse enormi Bonus Che Andando a prendere Altri gettoni Si vanno ad accumulare E così ragazzi Appunto Andiamo a guadagnare A fine season Le casse enormi Esattamente come Le cassaforti Di clash royale Dell'oro Altra cosa Come vi ho detto prima Le classifiche Le classifiche Devono essere Cioè Il matchmaking Deve essere In base ai trofei Che effettivamente Il player ha I trofei totali Non dei brawler I trofei totali E non Deve essere Dei trofei Che ha Utilizzando il brawler Che ha messo In quel match Quindi Non Ora Voi vedete Sono abbastanza bilanciati In base ai brawler Ma ripeto Questa persona qui Che era con me Aveva 31.220 trofei E io ne ho 17.000 E cento No 17.000 E denti Quindi si parla Di una differenza Di oltre 10.000 trofei Quindi sarebbe giusto Che matchassero In base ai trofei totali Che hai E anziché A mettere dei trofei Ai brawler Mettere delle sorte Di medaglioni Ed inoltre Mecciare Con i trofei E non Mecciare Con i medaglioni So che Molto contorto È difficile Come ragionamento Ragazzi Ma spero che Io mi sia spiegato Ve lo spiego L'ultimissima volta So che mi sto ripetendo Molto spesso Ma So che L'argomento È anche Molto complicato Da capire Però Ci tengo Che voi capiate Ora Io Come vi ripeto Vi faccio sempre Questo esempio Di quest'ultima partita Questo tizio qui Per esempio Aveva 18.000 trofei Come me Quindi 1.000 trofei In più di me È una differenza Importante Ma non tanto Qua si parla Di una differenza Di oltre 11.000 trofei Ora Cosa succede Brawl Stars Vi matcha Con le persone Che hanno I trofei simuli Ai vostri Cioè Voi Io sto andando Ad utilizzare Shelly Lui sta andando Ad utilizzare Come si chiama Questo qui Non mi ricordo Aspettate un attimo Buzz Ecco Lui ha Praticamente Gli stessi trofei Che ha la mia Shelly Ma non ha effettivamente Gli stessi trofei Che ho io Totali Lui ha 18.000 trofei Io ne ho 17.000 La Pam Ha 30 coppe in meno Della mia Shelly Ma ha Oltre 10.000 trofei In più di me Questo per farvi capire Meglio Che ci matchino Con Gli stessi trofei Totali Totali Quindi trofei questi Ma Che I brawler I brawler Che andiamo ad utilizzare Si magari Non ci devono Matchare con Con i trofei Ma con Delle medaglie O con Delle stelle O qualcosa Che si possono inventare Tranquillamente Loro Anziché i trofei E che però Ci matchino Con Dei player Che hanno Gli stessi Nostri trofei Totali In modo tale Che abbiamo Più o meno La Diciamo La stessa Delle stesse persone In base a Come sappiamo Giocare noi Quindi Se siamo A coppe alte Sicuramente Troviamo Player Forse E se siamo A coppe basse Sicuramente Troviamo Player Scarsi Inoltre Sarebbe bello Che andassero A togliere i bot Perché Molto spesso A coppe basse A coppe troppo basse No ma coppe alte A inizio rank Diventa molto più semplice Guadagnare gettoni E tutto Se la possono gestire Tranquillamente E' una cosa Molto difficile Però ragazzi E' da La scorsa estate Che Brawl Ormai è morto Hanno avuto tempo Quasi un anno Quindi secondo me Fare una roba del genere Sarebbe la cosa più Ideale Da andare a fare Inoltre Aggiungere anche Dei manufatti Nel pass Ma questo è un altro Discorso Quindi I principali problemi Sono quelli di cui Vi ho parlato In questo video Ma ripeto Andate a vedere Il video di Raxor Di Raxor Che vi ho linkato Nelle schede E capite tutto meglio Sicuramente Perché lui L'ha spiegato Più brevemente Ma meglio di me Io ci tenevo A farvi vedere Anche un esempio Con una partita Detto questo ragazzi Mi sono dilungato Fin troppo Spero che Comunque anche se E' un argomento Abbastanza contorto Io magari Non l'ho spiegato Nel migliore dei modi Voi in qualche modo Mi abbiate capito Fatemi sapere Nei commenti Cosa ne pensate Perché sono curiosissimo Di sapere anche il vostro punto di vista Fatemi sapere Se avete ragione Se secondo voi Ho ragione O se L'ha pensato in un'altra maniera E se L'ha pensato in un'altra maniera Cosa secondo voi La Supercell dovrebbe fare Per migliorare questo gioco Io ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Come al solito Se il video vi è piaciuto Lasciate un commento Mi piace Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Per non perdere nessun video Seguitemi sui social Trovate tutti i link In descrizione Ci vediamo domani alle 15 Con un nuovo video Qui sul canale Non so quando vedrete questo video Ma se lo state vedendo di venerdì Ci vediamo domani Con la reaction al Brawl Talk Se effettivamente uscirà domani Vi voglio bene Bella ragazzi Ciao